Il plans to go up. Le prese comprate da viatori quando il vecchio palazzo delle assicurazioni generali di Gorizia ha cambiato sede. Se volete tirare a questo livello, poi in questa sala dovrò chiedere al gerginio. Questa è un po' di più, è un po' di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.